Ehi, Alan! Ho lasciato lì il mio martello. Tieni! Merda! Chi tira martelli? Ne conosce di gente? Eh già. Allò? Allò? Vuole aiutare gli Stati Uniti? Non ci saranno più guerre dopo questa tua invenzione. Alan! Senti, devi darmi una mano a trovare un tizio. È un centenario completamente svitato. Si chiama Alan Carlson. S'è fregato i miei soldi. Trovatelo subito e portatelo qui. Pronto. Considerati già morto. Se vuoi ammazzarmi devi sbrigarti. Ho cento anni. Stronzo. Alan! Il compagno Stalin vuole che gli dica tutto ciò che sa sulla bomba atomica. Prima un goccetto, grazie. Viva la roma du show! Ah! È Alan Carlson! È Alan! È lui quell'auto! Guarda! È Alan Carlson! Con la mia valigia! Fa qualcosa! Vai addosso! Fa qualcosa! Ciao da Valeria. Il mistero è svelato. Ridley Scott e la 20th Century Fox sono a lavoro per sviluppare Prometheus 2. Data di uscita già fissata per il 4 marzo 2016. Lo sceneggiatore sarà Michael Green, già autore di Green Lantern. Il sequel si dice che avrà un tono più terrificante del precedente Prometheus. È inoltre prevista la presenza di svariati androidi, sempre interpretati da Michael Fassbender. Non si sa ancora se lo studio ha intenzione di dare a questa pellicola un titolo diverso da Prometheus 2, ma noi ovviamente vi terremo aggiornati, come sempre. Iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità in uscita. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!